Buongiorno a tutti siamo in compagnia del nostro presidente Sergio Pellissier e di una nuova new entry Andrea Perez. Sergio cosa ci racconti di Andrea? Cosa ti ha colpito? Beh che è un giocatore sicuramente da categoria superiore è un ragazzo che ha fatto molto bene in primavera ma un giocatore veramente importante ecco per questa categoria volevamo abbiamo cercato a lungo abbiamo corteggiato abbiamo cercato in tutti i modi di convincerlo a venire quindi ci fa molto piacere che sia sia arrivato e siamo felici. Bene Andrea benvenuto iniziamo con un po' di domande come mai hai deciso di trasferirti da Roma e venire appunto a Verona per giocare con la Climense. Beh per un semplice motivo perché dietro c'è un gran progetto cioè è stato molto affascinante la rinascita di un club che è partito dal basso per piano piano ritornare ma dove merita e quindi è questo per il gran progetto che c'è dietro. Arrivi una squadra che ha un bel mix di giocatori molto esperti anche in questa categoria. Che spogliatoio e gruppo ti aspetti? Unito a partire da magari dai più piccoli come me arrivare fino ai veterani che sia un gruppo unito perché solo con questo gruppo si possono fare delle grandi cose. La tua carriera comunque è breve perché sei molto giovane però hai già partecipato a molti raduni della nazionale LND under 16 anche con la fascia da capitano e ha vinto anche il torneo delle regioni con la rappresentativa Lazio. Che obiettivi hai? Beh sicuramente di crescere il più possibile, quello di migliorarmi giorno per giorno in ogni allenamento. Hai non so un idolo, un punto di riferimento a cui ti ispiri, un modello? Un modello... no. A me da quando ero piccolo mi è sempre piaciuto Allan del Napoli perché mi rispecchia un po' nelle sue caratteristiche quindi se ti devo dire un giocatore ti dico lui. Ultima cosa che ti chiedo se vuoi fare un saluto ai nostri tifosi. Un saluto a tutti i tifosi, forza Clivenze! Un saluto a tutti i tifosi, forza Clivenze!